Spesso vi dico di fare attenzione a non indebitarvi per delle cazzate, quindi a prendere il telefono a rata, a prendere la tv a rata e tante cose che non vi servono. Perché? Perché capisco che per tante persone è magari difficile comprarsi una casa direttamente pagandola, ok? Quindi cash, con i soldi in banca, eccetera. Lo capisco, capisco che per la maggior parte delle persone questa cosa è molto difficile. E quindi queste persone cosa fanno? Fanno un mutuo, no? Un mutuo magari a 20 anni, 25 anni, 30 anni e pagano delle rate per avere questo appartamento qua che poi diventa di loro proprietà. Ora, il problema è che se voi vi indebitate con la macchina, con la tv, con il telefono, eccetera, il mutuo, signori, se non siete capienti, non ve lo dà. Quindi non potete avere neanche la casa. Ecco perché vi dico di fare attenzione e non indebitarvi in cazzate.